Vi siete mai domandati perché le prugne Sunsweet siano così incredibilmente squisite? Ciò è il risultato di molte azioni. Come comincia la storia di una prugna Sunsweet? Si inizia raccogliendo delicatamente i frutti nel momento preciso in cui sono perfettamente maturi. Poi sono essiccati al più presto per mantenerne il sapore originale. Dopo l'essiccazione, una doccia di vapore le rigenera e le rende morbide e succulente. Ed ora il segreto più importante, l'esclusivo metodo di denocciolatura Sunsweet. Rimuoviamo i noccioli con molta delicatezza, lasciando i frutti intatti, deliziosi e succosi. Questa è la nostra storia. Con 100 anni di esperienza, generazioni di coltivatori Sunsweet hanno affinato l'arte e la scienza delle prugne perfette, squisite.